per un ragione non tolgo la macchina perchéhm ASetaan niente non tolgo la macchina perchéhanno pelo le macchina ma qui si fa ってる quanto mi hai a洗 via ma come non lo lasci stare ma come lo lasci stare non lo i faccio eh ma carriage ma prima ma questo è 那' ?" si lo faccio ass installment tu sembrava chiacchierà eh, sembrava chiacchierà, questa limba è più fortuna eh, ma perché gli ha portato la ricotta a Marietta stamattina? e io te lo figlio di Capoccione, e io te lo figlio di Capoccione, ma perché gli ha portato? ma state circa sentiamo un po', sentiamo un po', sentiamo un po', io lo stiamo a portare, tu me l'ha portata la ricotta stamattina, e io te lo figlio di Capoccione ce l'hai fatto? e se l'è fatta fa, occhiappa, lo so male, occhiappa a me stasci, sta marietta poco mi piace, mi piace poco sta marietta, sa? e beh, come me la fai? c'ha ragione, perché se ci mette le corne? ma aspetta lì, ma che c'ha fatto la ricotta? i ravioli? io si, ci faccio i ravioli? allora come non va girando un aglio su? ma calinaca! io lo sai da nessuno, e nessuno fa! key! i ravioli fai morta! ti capisco proprio Mauri, ti capisco proprio tu ne li somato! guardalo! eeeh, prendilo meglio perché? eee, lo so, che mo dà? ma roffora, però va bene sa che ti dico, mamma va, doppia la conga ma, che devo andare qua l'erba subito sulla conga di la stella Voi lo vedete come mi tratta quando arrivo la sera? Voi lo vedete? Ma che? Tu sei città? Io sto con me la faccia guarda! Mamma mia! Dica dove sei pure le veste! Guarda! 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 Ma... Proprio guarda io non lo so Meglio che vada a governare l'usomaro! Io non lo so, più l'acqua! Sì sì! Questa sera mi veste con i faccioli! Stanno stasera! Io la madonna l'ho fatta, io l'ho usata sul traccio! Ma non lo so! Non lo so! Io la madonna l'ho fatta! Io voglio mangiare stasera! Io lo so! Io voglio mangiare stasera! Ma come le fare qua? Ma come le fare? Ma come le fare? Qui va! Qui va! Qui va! Qui va! Qui va questa straccio! Ma stasera se in caso ci pensano un coltone suo! Ah sì! Avete tu? Preparate allora! Preparate allora! Eh! Mi vado a preverare! Dario quel ciccio di mutulo corpo! Gli agricolo sempre te ne manchia chiarare! Non facendo niente! Guarda! 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 Ma com'è che fraschi ci stanno, lo mette via, com'è che fraschi ci stanno, dagli fuori, dagli fuori. Dovrete sapere, signori, che più una volta, l'ultimo sabato di maggio, si svolgeva la festa delle Fandelle, cioè delle ragazze maritate vestite di bianco, che venivano in vestito dell'oro di Santiesi per organizzare tutta la festa. Chi tra voi donne si sente ancora una Fandella? Su, venite qua! Scusate, fanno fare un breve, non è che ce n'è tanto? Se quelle c'è mi trovano, non si fa tante, non ritrova manco la chiesa, mi sento un dolore! No, ma si stanno in piedi, eh, per favore! E' stata sola, che scusa! Anche ci sta, stata sola! Posso andare? Ecco, sono! Ecco, sono! Ah, ecco, sono! Sì, sono! Sì, sono! Se fanno bene, vanno soppelle! Una processione in ordine! Una processione in ordine! In ordine, ora! Stanno i figliari! Mi raccomando, eh! Bravi, eh! Eh, così! Glorikes irgendno! Escolta un po' il nostro obvistoso! È stata la vita italiana! Oh, ma мира, sa bonte! Allora, ma lista! Sì, è la vita principale! Alloraosia, sto num vậy, maggiore fondamentale. Attraverte...